Questo sarà l'ultimo episodio della serie di Genoveffa prima di iniziare appunto la serie con altre ragazze Una cosa, siccome tantissime persone mi hanno detto che questo tipo di video non è adatto a un pubblico molto giovane Ho deciso di mettere un disclaimer all'inizio di ogni video tipo Attenzione, questo video è solo per 18 più o solo per ragazzi diciamo dalla seconda barra terza media in su In modo che uno sappia se il video è adatto a lui oppure no Comunque di cosa parleremo in questo video? Di come Genoveffa si è fidanzata con un mio compagno di classe che non aveva mai visto in vita sua Perché le femmine possono fare una cosa magica del genere e soprattutto come andare a combattere questo comportamento qua Vi darò veramente un consiglio molto importante all'interno di questo video, vi consiglio di non perdervelo Eravamo verso metà della prima superiore ormai, diciamo che tra me e Genoveffa c'erano litigi che praticamente anche tutta la classe sapeva già Perché essendo lei nel gruppo di classe certe cose si notavano, certe cose si sentivano e poi lei parlava anche con altri miei compagni di classe In particolare c'era questo ragazzo cui piaceva il rapper Salmo e siccome anche a Genoveffa che stava diventando una centrina piaceva a Salmo Allora pam di brutto iniziano a sentirsi, a parlare delle canzoni di Salmo eccetera Un giorno io vado da Genoveffa e lei mi dice che è innamorata di un altro ragazzo e di un mio compagno di classe Io dico ma che cavolo, ma che cavolo, ma come può essere una cosa del genere voglio dire non ne ha mai visto nessuno E lei mi fa è lui e io dico ma che cavolo, ma vabbè, vabbè ok, è lui va bene E io inizio a litigare con lui, cioè in classe si inizia a creare una faida dove c'è un gruppo che sostiene me Che dice che lui è un figlio di donna, di facili costumi, merettrice E c'è invece chi è dalla sua parte dicendo che, eh vabbè, la scelta è di lei Quindi è giusto che lei scelga E al tempo ero immaturo e non capivo e in realtà adesso vi dico che io mi sarei schierato nel gruppo contro il mio Nel senso, lei ha scelto un altro quindi c'è da accettarlo, nel senso non c'è tanto da dire No, lui me l'ha rubato o roba del genere, assolutamente no Alla fine è una scelta sua e io morirò subito grazie a questo tipo Addio Addio, bibos Addio bimbos Mi, mi, mi dispiace proprio, mi dispiace bimbos Sta di fatto che comunque in classe litigavamo tantissimo Una cosa che io mi ricorderò sempre è che praticamente una volta venne addirittura una specie di donna Per parlare, no, sapete quelle cose che si fanno in classe per perdere un po' di lezione Dove tipo c'è una donna che parla di temi esterni Quindi magari tipo del bullismo o delle malattie, cose di questo genere qua E una volta venne questa qua appunto per far sì che nella classe tutti andassero d'accordo con tutti gli altri E tipo io mi ricorderò che lei chiese Eh, c'è qualcuno che ce l'ha a morte con uno in classe per qualsiasi motivo? E io faccio sì, io, con lui E indicavo un altro tipo Là ci siamo sbregati un po' da ridere Comunque il discorso sta di fatto che Ma, cioè, è normale che spawni una pistolina così con le munizioni? È normale una cosa del genere? Così a caso? Boh, vabbè Fatto sta che loro iniziano a frequentarsi La cosa che li tenne insieme fu il fatto che lui ascoltava lei quando lei si lamentava di me E soprattutto che ascoltavano Salmo insieme Quindi tipo si sentivano uomini vissuti e no? Che ascoltano il rap e si sentono super fighi Vabbè Ma che senso ha il van in singolo? Scusatemi un attimo Ma che... Boh, vabbè Però dovete sapere che in questo tipo di relazioni In queste relazioni un po' fatte così a caso, diciamo Fatte tanto per farle C'è un problema di base Che quando una femmina inizia a pensare che un altro ragazzo sia meglio di voi Soprattutto se avete avuto un rapporto parecchio lungo, intenso Quella ragazza inizierà a confrontare sempre quel ragazzo con voi E la maggior parte delle volte Il ragazzo perderà Infatti è difficile che comunque Cioè, diciamo che quando tu hai una relazione con una ragazza Ma anche di amicizia Fai un certo tipo di rituali Magari andate a mangiare sempre al Burger King Magari guardate sempre i film tipo il sabato sera Oppure giocate i videogiochi insieme O che ne so io Andate al campo sportivo Andate al parco Fate una passeggiata Insomma, ci sono dei tipi di rituali Che vengono fatti E chiaramente lei quando si va a rifidanzare Lei lo fa anche un po' per riempire quello che è un buco all'interno di lei E non pensate male Che io so già che voi pensate male Ma lei lo fa appunto per riempire quella che è una mancanza all'interno di sé E quando lei si rende conto che la persona che ha scelto Non riesce a riempire quelli che erano le mancanze Che si è andata a creare Diciamo Quando voi siete spariti dalla sua vita Lei molto probabilmente Anzi al 99% tornerà da voi Che è quello che successe Dopo un tot di mesi Mi sembra due o tre mesi Loro due si lasciarono Magari passò anche meno tempo Sinceramente non mi ricordo È passato molto tempo Non mi ricordo benissimo Però sta di fatto che dopo un po' Lei lasciò lui Cioè E questa roba era divertentissima Perché La cosa più bella di tutte È che tornò da me Tornò da me a dirmi che le mancava il nostro rapporto Che sicuramente sarebbe tutto ricominciato Perché non c'aveva assolutamente voglia di perdermi Il discorso è che invece Per me ormai non esisteva questa roba qua Cioè col cavolo voglio dire Le cose hai deciso che sono finite Sono finite Non esiste che Tu vieni Prendi Te ne vai Un po' torni Cioè Non esiste sta roba È una roba da sottoni Non da Sicuramente da Da gente seria In realtà noi tornammo amici Ma per Proprio per brevissimo tempo Perché comunque a me Lei non interessava più Non me ne poteva fregare Più di meno di lei Voglio dire La mia vita era andata avanti Cioè ti sei messa col mio amico Vedi che col mio amico Non è figo quanto con me E allora torni da me No non funziona così Non funziona così Non dovevi Andartene Prima di tutto Quindi non aspettarti di tornare O almeno con lei Il ragionamento era questo Poi chiaramente è perché Magari passò troppo tempo E quindi Anch'io mi distaccai assolutamente Cioè ma io Di solito quando una persona Se ne va Mi Cioè È inutile raga Tanto mettersi a piangere Cioè si va avanti E fine Se ne troverà sicuramente Una migliore dietro l'angolo Anche nella mia vita Sono stato con tante tipe Che pensavo fossero le migliori del mondo E sempre dietro l'angolo Ce n'era una Che era mille volte meglio E sarà sempre così È ovvio che quando ti innamori Vedi solo le cose positive E non vedi mai i difetti Quindi Qualsiasi tipa ti sembra La migliore del mondo Eccetera Quando in realtà poi Basta che ti volti un attimo E vedi Una tipa anche mille volte meglio Sia più figa Che più Più interessante Lei Tornò da me Ma non Non trovò quello che si aspettava Non trovò il me di un tempo Non trovò il me Pronto a fare qualsiasi cosa per lei A farle da schiavo Non trovò il me Che era disposto a fare tutte le cose Lei voleva un po' Avermi per metà Avermi sia Cioè Lei voleva avermi come amico E al contempo stesso Però inizia Cioè stare con gli altri Io non lo accettavo Chiaramente E così Pian piano Il nostro rapporto Si affievolì sempre di più Perché comunque A me non interessava lei Non veramente Non ci vedevamo più Non Cioè non facevamo più Le cose che facevamo un tempo Quindi Non avevo neanche più Quell'interesse A dire Sì dai Passo un sacco di tempo con lei Cioè per me Lei ormai non era più nessuno A differenza di questo nemico Che è qualcuno Che devo uccidere Infatti Infatti Se l'è giocata Un bel po' Devo dire Ma che cavolo Tu da dove compari Diamine Mai giocare senza le cuffie Mai giocare senza le cuffie Ma la cosa più divertente Fu col mio amico Perché il mio amico La odiava Cioè Aveva iniziato a odiarla E a odiarmi Perché chiaramente Noi addirittura Facciamo un gruppo Dove eravamo tutti e tre Dove lui si lamentava Del fatto che lei Appena lascia lui Torna subito da me E questa E io ci godevo una vita Al tempo Perché comunque Era un po' una vendetta Nei suoi confronti Però al contempo stesso Cioè non me ne poteva Sbattere di meno Sinceramente Eh ve lo dico la verità Io e Genoveffa Da allora Praticamente Non ci parliamo più Adesso abbiamo un rapporto Che se ci vediamo Ci salutiamo Ma finisce lì Nel senso Non è che poi parliamo O robe del genere Sinceramente Non mi interessa Un'amicizia con lei O una roba del genere Secondo me Certe persone Sono destinate Ad avere un rapporto Oppure no Cioè non c'è una via di mezzo Eccetera Perché sicuramente Uno dei due Finirebbe per starci male Com'è successo in passato Quando magari Lei era innamorata di me Poi io mi innamorai di lei E alla fine Entrambi diciamo Ci ripudiavamo a vicenda Quindi diciamo Questo è quello che successe Nel nostro caso Chiaramente ci sono Vari casi diversi Voglio dire È ovvio che ogni persona Ha un valore Differente da un'altra E con lui Come andò a finire Noi diventammo Migliori amici Cioè noi praticamente Per l'anno a seguire Non facevamo altro Che sparlare di lei E ridere di lei Dei suoi comportamenti Di tutte le cose strane Che faceva Che diceva Di tutti i suoi strani pensieri E robe del genere Cioè diventamo proprio I best friends forever Io e quel tipo Veramente Tuttora ridiamo Quando pensiamo Alle cose che sono successe Perché è ancora un mio amico E addirittura L'avete visto Cioè una volta L'avete anche beccato In live Vi devo dire la verità Chiaramente non posso Dirvi chi è Ma qual è l'insegnamento Che volevo darvi Assolutamente in questo video Beh l'insegnamento Che volevo darvi Assolutamente in questo video È che quando una persona Vuole andarsene via Dalla tua vita La cosa migliore da fare O comunque non vuole più Avere il tipo di rapporto Che tu vorresti che lei avesse La cosa migliore da fare È lasciarla andare Perché in questo modo Uno A te Magari Ti rendi conto Che quella persona Non era neanche Così veramente importante Per te Soprattutto se poi Smetti di pensarci Se ci pensi in continuazione Allora lì Sei tu un deficiente Ma soprattutto Perché solo sparendo Dalla vita di una persona Voi riuscirete a farle Sentire la vostra mancanza Ma che cavolo Ma che cavolo È successo Comunque stavo dicendo Che solo sparendo Dalla vita di una persona Voi riuscirete a farle Sentire la vostra mancanza E soprattutto In caso Voi riuscite A staccarvi Assolutamente da lei Perché Voglio dire Vi rendete conto Boh La mia vita È forse anche Mille volte meglio Senza E quindi Si va avanti In qualsiasi caso Magari voi Doveste rompere Un rapporto Con un vostro amico Con una vostra amica O con una vostra amorosa O qualsiasi altra cosa State Cioè State lontani Da quella persona Più lontani state Più non vi sentite Meglio è Perché solo così Vi renderete conto Dell'effettivo valore Di quella persona Come dicono tante canzoni No Non ti rendi conto Del valore di una persona Finché non l'hai persa Ma tu non capiresti lo stesso Quindi non dirlo Nemmeno per scherzo E scusa ma Non me ne importa Sono qua Un'altra volta Ci finisco sempre Senza farlo apposta Pensavo a prendermi la colpa Ciao